Matteo Renzi torna in città e lo fa in occasione della festa dell'unità organizzata dal Partito Democratico di Arezzo in programma dall'8 al 10 settembre alla Casa dell'Energia. Abbiamo avuto proprio ieri pomeriggio questa bella notizia, l'avevamo invitato, attendevamo la sua risposta e quindi Matteo Renzi sarà qui con noi domenica 10 settembre alle ore 21 a presentare il suo libro. Siamo anche tanti gli altri ospiti però. Sì, partiremo venerdì con un'iniziativa sulla cultura con il presidente della Commissione del Senato, appunto Commissione Cultura, il senatore Marcucci, poi proseguiremo da sabato mattina con l'onorevole Beccattini, il sottosegretario alla pubblica amministrazione Angelo Rughetti, poi nel pomeriggio avremo il sindaco di Firenze Nardella, avremo l'euro parlamentare Simona Bonafè con l'assessore regionale Fratoni. Poi la domenica mattina faremo una lettura con tutti questi, con i personaggi politici della nostra città, dei quotidiani locali e nazionali e poi chiuderemo con l'evento clou appunto di Matteo Renzi. Beh, è una festa che si svolge al centro della città, aperta a tutte le persone che saranno interessate a partecipare in diverse ore della giornata, che affronta temi diversi dallo sviluppo alla pubblica amministrazione, alla cultura, temi centrali per la vita del paese, delle persone. La speranza è che tanti possano partecipare anche ad ascoltare, a confrontarsi. Saranno momenti di ascolto, se necessario di critica, ma aperti come è sempre stato il Partito Democratico in questa città. Un ritorno in città dopo dei momenti indubbiamente particolari per Arezzo? Assolutamente sì, è anche giusto che ci sia un confronto aperto proprio su questo. È normale che in questi anni ci sono stati momenti anche non particolarmente, come dire, diciamo, ci sono state sicuramente situazioni di tensione, ma sono chiaramente dovute a responsabilità che sappiamo vengono al passato. Domenica potrebbe essere un'occasione anche per affrontare le tematiche che hanno messo Arezzo al centro, diciamo, della politica nazionale, ma che sicuramente vedono nella presenza del segretario del Partito Democratico anche un momento però di grande attenzione per le tantissime persone che hanno guardato con favore a questi anni di riforme. Questa è una città comunque tra, diciamo, quelle che hanno dato più sostegno anche al progetto di riforme, anche costituzionali, e quindi credo e penso che ci sarà sicuramente anche il giusto tributo a una fase di riforme che qui ha sempre trovato un sostegno molto forte.